Ieri pomeriggio, nella cornice di Palazzo Mungada, si è tenuto il convegno dell'Associazione Dislessia di Caltanissetta, in congomitanza con la settima settimana nazionale della dislessia, che viene svolto regolarmente ogni anno in campo nazionale, diviso in 60 sezioni provinciali dell'Associazione. Quest'anno l'Associazione Dislessia Caltanissetta, guidata dal dottore Marco Leonardo, ha organizzato due convegni sull'argomento, uno andato in scena ieri e l'altro oggi a Gela, al Teatro Eschilo. Nei convegni si discuterà sulle linee guida da intraprendere e sul metodo di inclusione, dove a parlarne saranno professionisti come psicologi e psicoterapeuti. L'impegno dell'Associazione è sensibilizzare il mondo professionale scolastico e la pubblica opinione sul problema della dislessia, promuovere la ricerca e la formazione nei diversi ambiti di intervento e offrire agli utenti un punto di riferimento qualificato per ottenere informazioni e aiuto per identificare il problema. Questo convegno ha in occasione della settima settimana un'azione della dislessia che si svolge annualmente praticamente in tutto il territorio, in 60 sezioni provinciali dell'Associazione, su scala nazionale. Sotto questo punto di vista quest'anno noi abbiamo organizzato ben due convegni, uno a Caltanissetta, al Palazzo Moncada che sta per iniziare e l'altro al Teatro Eschilo di Gela. È stato un bel tour de force, ci sono degli ospiti d'eccellenza, si parlerà di linee guida, inclusione e tutti gli aspetti che ne derivano. Tra gli ospiti abbiamo il professore Serafino Buono, il professore Cornoldi che si collegherà online, il dottore Francesco Di Blasi e il sottoscritto che parlerà di 10 anni di attività di screening moderati dalla dottoressa Chianese. È una settimana dedicata ai disturbi specifici dell'apprendimento, alla dislessia, ovvero a quei disturbi, a quelle neurodiversità per le quali alcuni bambini, alcuni alunni fanno fatica ad automatizzare i processi di lettura, scrittura e calcolo. Queste condizioni sono sostenute da aspetti neurobiologici, quindi non sono bambini che non hanno voglia di studiare, non sono demotivati allo studio. Questi aspetti arrivano dopo, alla base c'è un disturbo che non gli consente l'automatizzazione della lettura, della scrittura e del calcolo. Fare queste giornate è molto importante per sensibilizzare sia gli insegnanti curriculari, sia tutto il corpo quindi che non s' Loncate qui neni poi neuronale effettuati la mentale. Quindi, qui non mi vedgado, cioè la galeta di registratori